Il 24 e 25 ottobre torna la 36esima edizione della festa della Cassagna all'Ofara di Valle Castellana. Prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una o due giorni immersa nella natura dei Monti della Laga. Sì, hai un po' riassunto quello che ci caratterizza un po'. Il programma prevede sia il sabato che la domenica l'apertura degli stand gastronomici, diciamo, negli orari classici. Le visite ai castagneti in orari anche quelli prefissati, quindi la mattina e nel primo pomeriggio, ce ne saranno più di uno. Tra l'altro siamo coordinati dall'associazione Ager che attraverso degli accompagnatori accompagneranno le persone all'interno dei boschi. Ci sarà anche l'opportunità, quest'anno credo di sì, visto che la produzione c'è stata, magari di raccogliere anche qualche castagna. E le visite ai castagneti come ogni anno sono sempre più partecipate? Allora sì, riteniamo che la festa della castagna di Leofara sia un'esperienza multisensoriale, dove la fa da padrona il gusto con i piatti tipici e i prodotti locali. Ma tanta gente viene richiamata anche dal fascino dei luoghi e dall'autunno. Proprio per questo motivo sono previste delle visite guidate nei castagneti, la prima sabato pomeriggio a partire dalle ore 15 e domenica, la mattina a partire dalle ore 10 e poi il pomeriggio alle ore 15. Saremo a disposizione dei turisti e dei visitatori per svolgere questo avvicinamento al bosco, entrare nello stesso e conoscere questa importantissima risorsa del nostro territorio che da secoli caratterizza non solo l'economia ma l'identità delle genti dei Monti della Laga.